Parliamo della tassazione dei redditi dei lavoratori marittimi italiani su navi battenti bandiera estera. Il nostro sistema tributario ha soltanto di recente introdotto una normativa specifica su questo argomento, mentre le convenzioni contro le doppie imposizioni ne hanno sempre trattato, in particolare sulla disciplina dei lavoratori marittimi. Si tratta in sostanza dei criteri di tassazione da applicare ai redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato svolto su navi di traffico internazionali, cioè su imbarcazioni che operano in acque internazionali. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero da un soggetto fiscalmente residente in Italia è soggetto ad una duplice disciplina. La prima disciplina è quella generale interna, di cui è l'articolo 3 del DPR 917 dell'86 e prevede che c'è la tassazione dei redditi in Italia ovunque prodotti. La seconda disciplina è quella convenzionale. Bisogna fare in questo caso riferimento all'articolo 15 del modello Ocse, secondo cui se il reddito da lavoro dipendente è prestato all'estero per più di 183 giorni e in modalità continuativa è prevista una tassazione concorrente tra lo stato della fonte del reddito e lo stato di residenza del soggetto. Ora, la disciplina dei lavoratori su navi da bandiera estera ha carattere di specialità, pertanto porta alla deroga di molte di quelle disposizioni generali. Il principio generale in Italia è che se anche il lavoro si svolge all'estero c'è comunque la tassazione in Italia. Questo in base all'articolo 3 del DPR 917 dell'86 e al principio della Worldwide Taxation. Ora bisogna verificare come si applica questo principio al settore marittimo. La verifica parte dalla determinazione del luogo dove i lavoratori marittimi su navi battenti bandiera estera svolgono ed esercitano la propria attività. Il criterio generale da cui dobbiamo partire è che lo stato esercita la propria sovranità sul proprio territorio nazionale ed è considerato territorio nazionale anche le acque vicino alla costa, fino a un massimo di 12 miglia. Oltre questo limite non si tratta più di acque nazionali ma siamo in acque internazionali. Dopo diverse modifiche e diverse interpretazioni in merito alla tassazione c'è una regola di diritto internazionale. La troviamo nell'articolo 4 del codice della navigazione secondo cui le navi in traffico internazionale sono assoggettate alla legge dello stato della bandiera. Quindi deve intendersi come svolta in territorio estero anche l'attività lavorativa dei marittimi italiani operanti in alto mare, in acque internazionali a bordo di navi battenti bandiera estera. Il reddito da lavoro dunque è imponibile nello stato dove la nave batte bandiera. La tassazione dei lavoratori italiani su navi battenti bandiera estera però non è assoggettata a tassazione in Italia. Si considera infatti lavoratore estero il soggetto che svolge attività lavorativa all'estero in via continuativa e con oggetto esclusivo del rapporto, quindi il lavoratore italiano che svolge attività marittima su nave battente bandiera estera non è assoggettato a imposizione in Italia. Facciamo però dei chiarimenti. Bisogna considerare l'articolo 51,8 bis del DPR 917 dell'86 secondo cui il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e con oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che soggiornano all'estero per più di 183 giorni è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali. Però l'applicazione di questa norma è direttamente esclusa dall'articolo 5,5 della legge 88 del 2001 contenente disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime. Secondo questa norma per i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera il reddito derivante da tale attività è escluso dalla tassazione in Italia. La legge 88 del 2001 che è stata emanata il 16 marzo del 2001 ha fornito dunque un'interpretazione autentica dell'articolo 48,8 bis del DPR 917 dell'86 e ciò nel senso che per i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera per i quali non si applica il calcolo su base delle retribuzioni convenzionali viene escluso il reddito derivante da tale attività su tali navi prestati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 18 mesi. Questa esenzione da tassazione in Italia si applica dunque se il lavoratore marittimo è residente fiscalmente in Italia e soprattutto se svolge attività su navi battenti bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni all'anno. Se invece il soggetto lavora su navi battenti bandiera estera per un periodo inferiore a 183 giorni all'anno non si potrà applicare questa esenzione ma si applicheranno invece le ordinarie regole. Ciò significa che questi lavoratori potranno avvalersi della normativa internazionale ovviamente se questa risulta più favorevole. Ma come si calcolano i 183 giorni di imbarco? Ci aiuta in questo caso la circolare 207.00 dell'Agenzia delle Entrate che chiarisce che questo periodo non deve necessariamente essere risultare continuativo. Quindi dove sono imponibili le retribuzioni su navi battenti bandiera estera? Bisogna fare riferimento all'articolo 15,3 del modello Ocse che dice che sono imponibili nello stato contraente ove è situata la sede effettiva dell'impresa. Per i lavoratori marittimi però si deve fare riferimento allo stato dove è situata la direzione effettiva dell'impresa che può anche non coincidere con la bandiera. Se il paese però battente bandiera non ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni che cosa succede? Se non si superano i 183 giorni di lavoro i redditi saranno tassati in Italia in base all'articolo 3 del DPR 917 dell'86 senza applicazione della retribuzione convenzionale. Se invece il periodo di lavoro supera più di 183 giorni si verifica un fenomeno particolare ovvero il caso della doppia non imposizione. Attenzione perché è del tutto legittima. I redditi in questo caso non assumono rilevanza né per il fisco italiano né per il fischio del paese di direzione effettiva. Questo significa che i soggetti godono di una fiscalità privilegiata e quindi si tratta sempre dei paesi situati nelle cosiddette black list. Dopo tutto quello che abbiamo detto si deduce che le navi in Italia. Le navi italiane che operano in acque internazionali sono soggette alla sovranità italiana quindi redditi dei lavoratori che operano su di esse che sono imbarcati su di esse sono assoggettabili direttamente a tassazione italiana e in questo caso non viene nemmeno la distinzione tra superamento o meno dei 183 giorni.